Abbiamo voluto in qualche modo accendere un faro su quella che è la nostra rete regionale, in particolar modo i ritardi. Quello che è emerso è che da quando c'è Bonaccini sostanzialmente i ritardi ci sono e sono addirittura aumentati, dati significativi che ci dimostrano che questa giunta continua a voler investire su strade e cemento e invece non sulla mobilità sostenibile. Tutto questo impatta sulla qualità della vita dei pendolari, sul nostro ambiente perché come sapete tutti la pianura padana è il territorio più inquinato in Europa e impatta sulla vita dei pendolari, sulla vita di studenti e sulla salute di tutti i cittadini. Chiediamo sostanzialmente di investire molto di più e siccome in questi giorni si parla spesso di grandi opere, i soldi e le risorse che la regione vuole stanziare, penso per esempio all'autostrada Cispadana, si parla di 200 milioni di euro, vengano dirottati sulle nostre ferrovie regionali. In politica nazionale rimane lo scontro sulla TAV tra Salvini e il Movimento 5 Stelle. Andiamo a sentire in merito ancora Silvia Piccinini. Andiamo avanti nel dire no, lo studio, gli studi che abbiamo fatto lo dimostrano, non conviene a nessuno fare questa infrastruttura. Dispiace che Salvini continui in modo irresponsabile ad andare avanti nelle sue convinzioni, mettendo a rischio investimenti che sono stati fatti, penso per esempio a reddito di cittadinanza, quota 100, alla questione delle banche, insomma tutta una serie di proposte che stiamo avanzando e che in questo momento sono a rischio. Noi però stiamo fermi sul punto perché non conviene a nessuno, ripeto, noi stiamo cercando di gestire le risorse pubbliche come un buon padre di famiglia farebbe e i dati ci dicono che quest'opera non conviene, semplicemente. C'è il rischio di una crisi di governo? Vediamo il dialogo che si sta sviluppando in queste ore, vediamo se Salvini è disposto a fare un passo indietro, a rivedere le proprie posizioni, ma mi sembra che anche dalla sua base non ci sia la volontà di far cadere il governo. Ora è tutto nelle sue mani, credo, ripeto, che sia irresponsabile far cadere il governo su un'opera che è stata dichiarata sconveniente per tutti, quindi vediamo se lui fa qualche passo indietro, altrimenti credo che non avremo alternative e se ne assumerà lui la responsabilità.